Incidente mortale a Bovalino in provincia di Reggio Calabria. La vittima è Giovanni Nirta, un bambino di soli 11 anni morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 agosto intorno alle 17. Stando a quanto finora emerso, Giovanni in sella ad una bicicletta elettrica stava uscendo dal parcheggio interno del centro commerciale La Galleria che si affaccia nelle stradine di Contrada a San Nicola quando è stato travolto da un'auto in transito che proveniva dal lato monte e che lo ha colpito in pieno. Immediatamente soccorso da alcuni passanti e poi dal personale del 118 le sue condizioni sono apparse subito disperate. Giovanni è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sulla dinamica indagano i carabinieri e la polizia di Stato.